Roma in silenzio stampa respingimento ricorso per Mourinho. ANSA, Roma, 10 marzo la Roma da oggi e fino al darby del 19 marzo sarà in silenzio stampa in occasione dei pre e post partita delle gare contro Sassuolo e Lazio. È la protesta del club giallorosso dopo che la corti sportiva d'appello ha respinto il ricorso della società per la squalifica di due giornate di Jose Mourinho. La Roma è furiosa per la decisione, perché si aspettava quantomeno la riduzione della sanzione a un turno di stop per l'espulsione del tecnico in cremonese Roma. Visti sia l'avviso di deferimento arrivato al quarto uomo serra dalla procura federale, sia la difesa fornita dai legali del club in occasione delle audizioni. Discorso parte per la partita di Europa League con la Real Sociedad dove Mourinho parlerà in conferenza stampa perché secondo la Roma non sarebbe giusto che una protesta nei confronti della giustizia sportiva italiana ricca da Asul UEFA, ANSA, virgola.